Ciao a tutti, siamo qui questa settimana a commentare di nuovo insieme ciò che è accaduto, i fatti politici. Permettetemi però di dirvi da vecchio e grande tifoso milanista che la settimana non è iniziata molto bene per me. Domenica sera era allo stadio, come magari molti di voi, o molti di voi hanno visto la partita, il derby alla televisione. Bene, ci eravamo illusi tutti sul 2-0 che finalmente dopo anni di sofferenza anche questo milan un po' scalcagnato, un po' titubante potesse finalmente darci una piccola ma grande soddisfazione. Eppure dopo il 2-0 del primo tempo avete visto quello che è accaduto. Mi è bastato leggere gli sfottò che mi sono arrivati da domenica sera e per tutta la giornata di lunedì per dirvi quanti di voi si direbbe in termini calcistici hanno goduto. Però volevo dirvi una cosa, per noi la fede rimane sempre la fede rossonera. Ibrahimovic è un grande, il Milan è sempre un grande, sia che vinciamo che perdiamo. Mi dispiace ma noi la fede rossonera non la molleremo mai. Apro e chiudo la parentesi, questo per quelli che mi hanno mandato tutti quegli sms, whatsapp, post su facebook eccetera. Sempre e comunque forza Milan. La settimana parlamentare non è iniziata e non è iniziata semplicemente perché il governo non ha ancora preso una decisione, non ha ancora trovato un accordo. È due mesi che il governo è fermo nella discussione, nelle liti continue al proprio interno sulla cosiddetta prescrizione. Italia Viva, Partito Democratico, Leo Movimento 5 Stelle, il ministro Boda Fede sempre nella bufera. Molti di voi mi hanno scritto, anche perché in questa settimana ho dato i miei giudizi, in Parlamento sono più volte intervenuto sul tema della prescrizione. E per dirvi quello che penso, voglio riprendere alcune osservazioni di chi, ovviamente guidato, è sembrato che molti di voi, questo è il solito modo del Movimento 5 Stelle, di dire a raffica e ripetere a raffica le stesse identiche cose, ma non importa, io le prendo su serio, perché tutti bisogna prendere su serio, Maria Birte, Giuseppe Spitale, Renzo Ciaralli, Giovanna Rosa. Renzo Ciaralli, devo dirti, io sono un tifoso, te l'ho dimostrato prima Renzo, sono milanista, ha perso 4-2 il Milan e ti ho alzato la maglia di Banivoic, ma come fai a dire, abbiamo visto i ministri della giustizia competenti prima di Bonafede che cosa hanno fatto, leggi ad persona ma go go, Bonafede è un ministro competente, perdonami, uno che non sa neanche la distinzione tra la differenza che esiste tra doloso e colposo, anche una matricola sa ovviamente che differenza c'è, indipendentemente da come la pensiamo. Ma vorrei riprendere Maria che dice, Lupi cosa stai dicendo? Perché avete così paura della legge spazzacorrotti? Bonafede non è acceccato, neanche il popolo, voi perché avete paura? Noi non abbiamo paura. Io credo che non si sia, mi dispiace Maria, ma non hai capito qual è la battaglia delle battaglie che stiamo conducendo. Io credo che ci sia il diritto e il dovere ad un giusto processo, credo che sia assolutamente giusto e lo dobbiamo condividere che chi ha sbagliato paghi, credo che sia assolutamente giusto in questo Paese la certezza della pena. Se uno ha sbagliato deve andare in galera e deve scontare la propria pena ad una condizione, che la nostra Costituzione, a differenza delle altre Costituzioni, prevede che la pena sia educativa, nel senso che prevede la possibilità sconti la tua pena perché tu possa essere riabilitato, ma credo altrettanto che sia giusto avere un processo in tempi certi e rapidi. E credo altrettanto che purtroppo è quello che è accaduto in questo Paese, ed è l'errore che sta facendo il Movimento 5 Stelle con questo giustizialismo imperante, ed è l'errore che sta facendo il Ministro Bonafede, che purtroppo la Costituzione si sia ribaltata. Avete portato avanti in questi anni una battaglia per cui uno non è innocente fino a che viene condannato, ma è diventato colpevole, basta che riceva un avviso di garanzia o che sia indagato. Questo è il tema e il processo poi può arrivare dopo dieci anni, le indagini possono durare tre, quattro, cinque anni, ma nel frattempo è diventato colpevole agli occhi di tutta l'opinione pubblica. E non si tratta solo dei politici, si tratta dei cittadini qualunque, perché ci sono ogni anno oltre mille persone che vengono risarcite perché ingiustamente arrestati, perché ingiustamente messi in galera. Chi lo dice che se sei in galera sei per forza colpevole? Quanti innocenti sono stati messi in galera? Quante volte la galera è stata usata non per far scontare la pena, ma solo per far confessare qualcuno di un reato che magari poi si scopre che non ha neanche commesso? Credo che debba essere interesse di tutti, avere il diritto ad un giusto processo, avere il diritto ad una giustizia che abbia tempi rapidi nel poter essere esercitata, ma altrettanto ad avere il diritto a non essere considerati colpevoli fino a che non arrivi una sentenza. che cosa diamo ad ogni cittadino? La soluzione non è acceleriamo i processi, riformiamo la giustizia, la soluzione che il Ministro Bonafede propone è aboliamo la prescrizione. Che cos'è la prescrizione? È il fatto semplicemente che un processo non può durare 20 anni e prima o poi in America, le indagini in America, nella grande e civile America, durano le inchieste, hanno un tempo determinato. Se entro un certo tempo non hai scoperto, non hai portato le prove che quella persona è colpevole, non puoi più andare avanti a fare quelle indagini, che sia colpevole o non sia colpevole. Allora, noi dobbiamo, abbiamo una cultura occidentale, dobbiamo ovviamente batterci per questo, è una battaglia di tutti. Quello che non riesco a capire è come il Partito Democratico possa accettare questo principio. Noi stiamo dicendo torniamo alla proposta di legge del Partito Democratico. Torniamo al fatto che l'Italia Viva sta facendo una semplice proposta. Entri in vigore, si faccia finalmente la riforma della giustizia e successivamente entri in vigore anche la riforma della prescrizione. Bene, aspetteremo che la maggioranza trovi il suo accordo. Nel frattempo chiude Air Italy, ci sono le crisi industriali che proseguono, c'è il coronavirus che sta rallentando l'economia di tutti i paesi. Le ultime previsioni danno una crescita dello 0,3 per l'Italia. Il debito pubblico aumenta, ma nel frattempo il governo non governa. Il governo è fatto per governare. Un altro elemento, scusami Renzo, se fosse stato così competente, come fa un ministro della giustizia a non conoscere, a non sapere che una legge, in particolare una legge penale, non può essere retroattiva, cioè non può peggiorare la condizione di un cittadino, perché la cultura del diritto è che vede la persona, la libertà e il rispetto della persona e della dignità prima fra tutto. E quindi una legge penale non può essere retroattiva. La spazia corrotti non poteva essere retroattiva, poteva applicare giustamente il proprio funzionamento dal primo giorno in cui è entrato in vigore in là. Ognuno sapeva che piaccia o non piaccia, quella è la legge che doveva rispettare. Non a caso, o sono ignoranti anche quelli della Corte Costituzionale, questa settimana è arrivata anche la sentenza della Corte Costituzionale che ha spazzato la spazio corrotti. Ha tirato uno schiaffo morale al ministro della giustizia dicendogli che non è possibile, è anticostituzionale, non puoi fare quello che hai fatto. Leggeremo il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale, ma già le prime anticipazioni non danno adito a dubbi. E quanti che non dovevano stare in galera sono stati messi in galera con una legge incostituzionale perché è entrata in vigore la spazia corrotti? Ecco, queste sono le domande che dobbiamo farci, sperando di deporre le armi dell'ideologia, ma cercando di collaborare anche sulla giustizia per costruire un paese più giusto. Infine, mi interessa rispondere e dire che i nostri impegni dovrebbero essere tutti concentrati, maggioranza e opposizione a rispondere all'ennesimo dato drammatico che abbiamo avuto questa settimana. Il paese invecchia sempre di più. L'anno scorso in Italia sono morte 647 mila persone e sono nati 435 mila bambini, la differenza è di 212 mila persone. Pensate, è come se fosse sparita da un anno all'altro una città come Padova, con gli stessi abitanti di Padova. Quale futuro potremmo avere se insieme non comprendiamo che il futuro del nostro paese è affidato alla natalità, alla possibilità di mettere al mondo dei figli, che non è solo una possibilità, ma è una grande responsabilità e su questo gli sforzi devono essere di tutti. Primo, personali, la coscienza che il compito che noi abbiamo nella famiglia è veramente la responsabilità di poter dare un futuro e nel dare un futuro questo si fa assumendosi la responsabilità di mettere al mondo dei figli, di educarli e di dare la possibilità che i nostri figli possano essere il futuro del nostro paese. Da parte delle istituzioni, da parte del governo, da parte della politica, ovviamente di creare le condizioni perché questa responsabilità, che è la responsabilità delle responsabilità di un cittadino, di una famiglia, possa essere aiutata ad essere esercitata. Il tema degli asili nido, il tema delle politiche a favore della natalità e delle famiglie, il tema della tassazione che deve aiutare le famiglie numerose, i modelli che possono essere presi, ci sono, ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, pensiamo alla Francia, alla politica che ha fatto riguardo all'aiuto alle famiglie e alla natalità. È una battaglia di tutti, non è una battaglia di qualcuno. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha lanciato un allarme drammatico, anziché stare ancora sulla spazza corrotti, anziché stare ancora a litigare sulla prescrizione, proviamo a lavorare tutti insieme per fare finalmente una politica seria e attiva e concreta per quanto riguarda una politica a sostegno delle famiglie e della natalità. Permettetemi di dare un saluto affettuoso anche ad un carissimo amico, a Roberto Formigoni, che è stato ingiustamente in galera per qualche mese perché gli è stata applicata una legge che poi è stata dichiarata assolutamente anticostituzionale. Lo saluto con affetto, nessuno di noi dimenticherà il bene che ha fatto per la Regione Lombardia, sta scontando la sua pena con dignità e con una serietà, ma ognuno di noi dovrebbe farsi le domande pensando al fatto che si possono fare anche delle leggi che non solo hanno messo ingiustamente in galera Roberto Formigoni, ma che hanno fatto rinchiudere in galera tanti altre persone che non dovevano andarci. C'è un modo diverso per scontare la pena, la Costituzione e le leggi lo prevedono, che può essere anche quella dell'affidamento ai servizi sociali, del scontare la pena al proprio domicilio. Ci sono tante mode con cui la pena può essere scontata e la legge può essere applicata. Grazie, alla prossima.